ma buonasera a tutti ben trovati siamo ancora non dimentichiamoci siamo ancora nel mese di adar anche se purim è già passato però il mese ancora adar e siamo ancora nel mese della ribalta nel mese della gioia nel mese di poter cambiare le situazioni antipatiche siamo ancora nel mese santo benedetto fortunato ma in realtà finito adar entreremo nel mese di nissan che è il mese della liberazione della schiavitù perciò abbiamo qua due mesi interi pieni pieni di benedizioni e sta soltanto a noi essere capaci di cogliere queste benedizioni che ha in servo per noi stasera la lezione è stata dedicata da alessia di castro non l'ho vista ma magari mi è sfuggito il nome che vuole dedicare questa lezione alla guarigione di tutte le persone al mondo che sono malate e io aggiungerei anche al mondo stesso perché in realtà è il mondo che è malato ovviamente tramite le persone ma è l'ideologia del mondo che è malato quindi per cui quando noi guariremo a livello di mente e capiremo chi è il padrone del mondo chi giostra il mondo e che tutto quello che succede soltanto tramite Hashem allora cominceremo a guarire in realtà a proposito di guarire io adesso ho la febbre e oggi avevo tutto il tempo stavo stavo malissimo brividi appunto febbre eccetera però ho detto non è possibile non ho perso in tutti gli anni non abbiamo se chi lo sa non abbiamo perso neanche una lezione nonostante i viaggi i matrimoni eccetera non abbiamo mai perso una lezione periodi natalizi periodi estivi ho detto non posso sicuramente per un po di febbre mancare la lezione credetemi stavo malissimo adesso appena ho acceso il video e vedere tutte le persone che credetemi la forza della Torah lo vedo ancora una volta con i miei occhi la forza della Torah va al di là di qualsiasi medicina di qualsiasi cura certo bisogna curarsi non c'è dubbio ma la forza interiore che ti dà la Torah wow lo sto adesso vedendo se non fosse giovedì sera con la diretta sarei a letto sotto le coperte col tè caldo e limone eccetera però baruch hashem wow wow posso dirlo studiare Torah e partecipare a una lezione fa soltanto bene facciamo la cdk quotidiana grazie a tutti di partecipare con questa cdk e appunto appunto stasera festeggiamo festeggiamo questa bella sorpresa non è una sorpresa questo bello evento di due nostri veterani davide micaniche per la per la barchi che baruch hashem dopo diversi anni di matrimonio finalmente sono riusciti ad avere il maschietto il primo figlio baruch hashem questa è stata una cosa una cosa gioiosa per tutti già il fatto di quando lei è rimasta incinta e baruch hashem è una gioia a milano tutti saltano di gioia e anche chi non è a milano chi li conosce e sa la loro storia tutti saltano di gioia per questo grande evento ecco alessia di castro appena entrata che lei ha voluto offrire questa serata perciò baruch hashem baruch hashem stasera è la gioia di tutti noi di avere un nuovo nipotino nella nostra famiglia perché questa è una famiglia è una comunità virtuale allora qualsiasi membro della famiglia dovunque lui si trova se ha una gioia tutti noi gioiamo gioiamo con lui e chasve shalom mai sia quando c'è anche un momento difficile siamo tutti insieme è quello che dobbiamo sentirci questo gruppo che da anni va avanti mi sembra che sia il quarto anno questo si è creato passo dopo passo e tutti veramente dobbiamo sentirci un'unica famiglia di gioire l'uno per l'altro perciò perla e davide che hashem vi benedica a essere sempre sempre pieni di gioia che questo bimbo posso portarvi tanta benedizione a voi e a tutti noi zii che siamo i pro zii di questo bimbo shabbat speciale anche questo shabbat kitisa che tra l'altro è la parasha del mio bar mitzvah ed è anche il shabbat parà e adesso spiegheremo infatti questo shabbat faremo uscire due torah e non una nella prima leggeremo la consuetà parasha settimanale nella seconda leggeremo un pezzo della parà aduma della vicenda della mucca rossa adesso prima di cominciare con i vari argomenti le varie lezioni per intero stasera abbiamo diverse storie un argomento molto molto bello nuovo che non abbiamo mai trattato finora noi stasera parliamo della parasha parla della di quando gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro e di quando mose quando ha visto quando è sceso con le tavole della legge sappiamo la famosa storia che mosè era salito sul sinai a prendere le tavole della legge quando è sceso ha visto che gli ebrei avevano fatto idolatria adesso studieremo tutto la vicenda di come si è susseguita il perché hanno fatto questo sbaglio e quant'altro però sappiamo che ogni cosa che succede nella vita e ogni cosa che la torà specialmente viene a raccontarci ha un insegnamento speciale anche se l'avvenimento la storia è una cosa negativa perché nella torà vengono a raccontarci anche di cose negative che succedono i fratelli che uccidono i fratelli caino abele tutte le cose anche le cose più negative la torà ce le racconta perché ce le racconta per insegnarci che dietro a ogni cosa c'è una ragione c'è una motivazione e c'è un insegnamento perciò cominciamo con un aneddoto visto che parliamo adesso della distruzione di quando mosè appunto ha rotto le tavole e c'è un aneddoto che dice così siamo in un paesino dove c'è un sarto questo sarto pian piano diventa molto famoso perché si accorgono che lui ha una buona mano fa dei belli abiti fa dei bei vestiti e quant'altro e pian piano veramente diventa famoso anche in tutto il paese il re sente che questo sarto è molto bravo e cosa fa lo chiama gli dà un tessuto molto pregiato che lui aveva comprato in che aveva pagato tanti soldi eccetera dice fammi un abito so che tu sei un bravo sarto fammi un abito fammi pagare quello che vuoi ma io voglio un abito proprio fatto come si deve il sarto contento onorato che il re l'ha chiamato eccetera eccetera va prende le misure va a casa e comincia a cucire il giorno che l'abito era pronto tutto felice contento va al palazzo reale arriva dal re gli dà il vestito reale il re lo guarda disgustato arrabbiato gli butta il vestito addosso dice ma vattene via cos'è questo brutto abito che mi hai cucito mi hai rovinato questo questo questa tela così speciale questo questo tessuto così speciale me l'hai rovinato vai e vieni non voglio più vederti l'uomo non capisce ma ho fatto con tutti i criteri ho messo anche più attenzione il re non capisce cosa succede direttamente da lì va a casa del rabbino a dirgli rabbino cosa devo fare gli racconta la storia e rabbino dice ho io un segreto da svelare ho un metodo per te dici cosa vai a casa scucci tutto il vestito apri lo scucilo e ricucilo di nuovo da capo allora il sarto dice ma rabbino che differenza fa lo scuccio lo scuccio e uscirà fuori la stessa cosa ma tu non ti preoccupare non hai niente da perdere perché ormai lui ti ha già licenziato ti ha già mandato via puoi soltanto guadagnarci e così succede va a casa lo scuce con tanta cura lo ricuce dopo qualche giorno ritorna dal re lo fanno entrare lui non si aspettava neanche che il re lo facesse entrare e cosa dice il re vede questo abito wow adesso sì che quest'abito è veramente fatto ad opera d'arte gli da i soldi che deve dare lo ringrazia è felici contento è il sarto felicissimo ma anche tutto sbalordito non capiva cosa stava succedendo perché ha fatto esattamente lo stesso vestito di prima non ha cambiato neanche di un millimetro più largo più stretto niente di nuovo direttamente va a casa del rabbino dice rabbino io non capisco ma cos'è che è successo qua e lui dice viene che ti dico quando tu sei andato la prima volta eri tutto pieno di te stesso eri felice che il re ti ha scelto avevi tanta superbia che il re ti ha scelto che adesso diventerai ancora più famoso eri pieno pieno di superbia allora ricordati quando una persona si comporta in un modo non è perché lui è perché dal cielo noi sappiamo che a dio non piace la superbia a dio ama la modestia allora dio non gli è piaciuto il tuo comportamento e ha messo anche nel cuore del re di mandarti via lui magari non capiva neanche perché mi era tutta una cosa dal cielo quando sei tornato a casa e con un cuore infranto con tanti dubbi con tanti chissà cosa sarà cosa non sarà alcune incertezze ma con tanta umiltà hai ricucito l'abito del re allora quando tu sei andato lì pieno di umiltà e di paura di cosa di come reagirà il re allora il re del cielo hashem ha visto la tua modestia ha visto che tu hai abbassato un po il tuo la tua cresta come si dice e allora hashem ha amato il tuo comportamento e di conseguenza e di conseguenza anche il re un po come la storia di purim quando hashem ha perdonato anche hashverosh ha salvato gli ebrei ecco questo è il punto della nostra parashah nella nostra parashah leggiamo che gli ebrei fanno il peccato di idolatria a tal punto che mosea quando scende e vede il misfatto rompe le tavole giusto perché gli ebrei hanno peccato una cosa del genere a prima vista quando loro vero ma montano mi quando gli ebrei hanno visto che tra tutte le varie nazioni che c'erano al mondo hashem ha dato la torah proprio agli ebrei si sono sentiti anche loro superbia pieni di loro stessi dio ha scelto noi allora sappiamo che dio non sopporta la superbia della persona quando mose è sceso questa la superbia loro ha fatto causare di fare idolatria e quando mose è sceso ha rotto le tavole quando mose ha rotto le tavole cosa ha causato che anche la loro superbia si rompesse perciò in quel momento dio cosa dice a mosè mosè ci rimane male con se stesso si pente di aver rotto le tavole di dio senza chiedere permesso dio gli risponde mosè non ti preoccupare bravo hai fatto bene a rompere perché gli ebrei avevano bisogno di un po di modestia e tu rompendo davanti a loro le tavole della legge hai causato di risvegliare in loro la modestia infatti tutto il tempo che loro giravano col tabernacolo in generale le cocci rotti delle prime tavole della legge erano sempre nella ron nell'arca dove c'erano riposte poi le seconde tavole della legge per ricordarti sempre si umile non cadere di nuovo nel tuo sbaglio perciò vediamo qua che quando la persona è umile hashem è con lui quando la persona è piena di superbia hashem si stacca cazzo shalom da questa persona per quelle persone che hanno problemi di internet non so provate a uscire e a entrare a spegnere e a riaccendere probabilmente forse vi rifunzionerà di nuovo perché le altre persone funziona a tanti funziona bene ok ma la domanda la domanda delle domande che stasera noi ci poniamo ma è una domanda che si pongono tutti i saggi i commentatori di tutte le generazioni è come è possibile che aronne il sommo sacerdote di fratello di mosè abbia in qualche modo partecipato anche lui con la costruzione e il peccato il peccato no ma la costruzione del vitello d'oro come è possibile che aronne non sia stato capace di fermare questa catastrofe mosè non c'era adesso vediamo la storia ma aronne che era presente come mai non è riuscito a fermare proprio aronne che quando mosè viene chiamato da dio per andare a salvare gli ebrei in egitto cosa risponde mosè cosa mandi me io non sono una persona carismatica una persona di parole manda aronne lui è superiore a me mosè stesso dice manda aronne lui è meglio di me e come mai questo aronne che è meglio di mosè non è capace di tenere a bada un popolo per poche ore come vedremo e non soltanto lui aiuta anche fa partecipa con il vitello d'oro e lui era anche il sommo sacerdote cosa fa aronne quando riportano l'oro lui lo butta nel fuoco lui aronne butta il fuoco il fuoco il oro nel fuoco e viene fuori il vitello lui ha creato il gli altari per fare sacrificio a questo vita come è possibile aronne cosa sta succedendo qua infatti quando mosè scende e vede e spacca vada aronne mosè e dice cosa cosa ti hanno fatto cosa ti hanno fatto da indurti a fare una cosa del genere infatti mosè aronne le dice od me adus calunia ancora un po e mi lapidavano e adesso vedremo tutto il susseguirsi della storia però cosa succede come finisce la storia che questo aronne così importante vediamo che hashem non l'ha punito non l'ha punito e non soltanto che non lo punisce continua a rimanere sacerdote non li toglie neanche il sacerdozio e la la capa alla idolatria anche se poi fate sciuva non potrà mai più vita sua essere sacerdote sommo sacerdote come mai qui a ronne che ha fatto vediamo che ha preso parte della storia vediamo che dio l'ha perdonato e l'ha continuato e l'ha lasciato non gli ha tolto il fatto di essere coengador coengador la storia è la seguente gli ebrei ricevono i dieci comandamenti prima i dieci comandamenti questo tante persone confondono i dieci comandamenti all'inizio non soltanto verbali perciò quando dio si è rivelato sul sinai per la prima volta ha soltanto verbalmente elencato i dieci comandamenti il giorno dopo mosè sale sul sinai i famosi 40 giorni 40 notti per studiare imparare nei dettagli quello che hashem ha detto in breve per poi scendere con le tavole della legge perciò a shavuot non c'è ancora le tavole della legge a shavuot è soltanto verbalmente dio ha detto poi cosa succede mosè dice vado 40 giorni 40 notti a prendere i dieci comandamenti e poi torno giù noi sappiamo che la torà ci racconta che gli ebrei sbagliano il conteggio perché i 40 giorni non cominciavano dal momento che lui è partito ma dal giorno 1 dal giorno dopo praticamente c'era uno sbaglio che le brei avevano compiuto di come calcolare questi 40 giorni perciò succede che arriva il quarantesimo giorno mosè non arriva gli ebrei vanno in panico non soltanto sappiamo che quando c'è un problema il satan le forze del male gongolano il satan ha fatto vedere un'immagine del funerale di mosè che mosè è morto proprio hanno visto in cielo l'immagine che mosè è morto e lo stanno seppellendo comunque mosè è morto il popolo che mosè per loro era tutto era loro leader la loro guida era ogni cosa che ogni problema che avevano andava da mosè cosa fanno vogliono avere un'altra guida ecco questo è il punto che purtroppo molte volte le persone saltano perché non conoscono bene la storia non è che loro hanno tradito dio e hanno fatto idolatria quando mosè era ancora su non era questo punto loro quando hanno visto che il loro tramite che il mosè il loro leader non c'era più loro hanno impanicato tutti i miracoli che mosè faceva per noi tutto difenderci dalle altri popoli la guerra che faceva mosè tutto quello che finora mosè rappresentava per gli ebrei di colpo veniva a svanire per loro perché loro hanno cominciato ad avere paura perché manca il loro leader manca il loro mosè manca loro guida allora loro volevano avere un'altra guida all'inizio non era idolatria all'inizio loro semplicemente anzi era nobile si hanno sbagliato perché se la tua guida ti dice vado e torno non devi avere dubbio ma ha messo e concesso va bene hanno sbagliato il calcolo ma l'idea all'inizio era un'idea nobile vogliamo avere un qualcuno che ci porta avanti che ci difende che ci che ci connette con dio un leader un mosè vogliamo un altro mosè adesso cosa succede vanno da khur quando mosè va via lascia aronne e khur i due capi khur era il loro nipote gli ebrei quando vedono questa scena vanno da khur e gli dicono e gli dicono vogliamo un'altra guida facci un vitello un qualcosa che ci guidi al posto di mosè khur cosa dice ma siete matti un vitello idolatria potrà uscire fuori da questa idolatria cosa hanno fatto l'hanno ammazzato sul colpo perché potete immaginare la situazione erano migliaia e migliaia di persone in panico che il loro ma il loro leader non c'è più vanno da khur e khur dice no ma che poi questo sfocerà indolatria lo ammazzano subito ma senza neanche giudicare subito lo ammazzano ucciso khur vanno da aronne aronne mosè è morto cosa facciamo adesso vogliamo vogliamo una guida che ci porti avanti aronne cosa ha fatto aronne aronne in quel momento aveva due scelte seguitemi bene la scelta numero uno era mi faccio ammazzare anch'io guai a parlare di idolatria c'è scritto che una persona è chiara è una lachà chiara quando una persona ti viene e ti dice fai idolatria inchiedete questo idolo se no ti uccido c'è scritto che la persona deve farsi uccidere ma non fare idolatria ci sono tre cose che la torà ti dice piuttosto ti fai uccidere ma non fai quel peccato tutte le altre cose per risparmare la vita puoi farle mangiare proibito shabbat qualsiasi cosa se qualcuno ti dice ti ammazzo lo fai perché la vita viene prima ma ci sono tre cose che sono peggio di morire perché è una morte spirituale e che cosa sono a vota sarà idolatria fico da me uccidere un'altra persona di lui a raiot rapporti proibiti se una persona viene ti punta la pistola e ti dice inchiene di questo dio piuttosto che uccidi quella persona se no ti uccido piuttosto che vai giaci con questa donna che è sposata tu piuttosto devi farti uccidere ma non fare uno di questi tre aronne uno può pensare dove è il suo spirito di sacrificio come cur si è opposto l'hanno ucciso dove si fatti uccidere anche te aronne per il nome della torà per non fare idolatria nella storia non mancano personaggi nella storia che si sono fatti uccidere per non piegarsi tutta la tutta la vicenda di purim che cos'era che che mordecai non voleva voleva piegarsi ad aman e ha causato che tutti venissero almeno il decreto che tutti morissero perciò non è una cosa semplice l'atteggiamento di aronne perciò aronne cosa ha fatto allora aveva due scelte uno è battere il pugno no no io non partecipo l'avrebbero ucciso come al nipote hur oppure aronne ha avuto la brillante idea la sveltezza di avere un secondo piano e questo secondo piano vediamo che era il piano migliore che poteva in quel momento avere lui cosa succede anziché mettersi contro loro e farsi uccidere cosa succedeva se aronne si faceva uccidere succedeva che questo popolo rimaneva senza i due capi Mosè non c'è cuore morto se uccidono anche aronne cosa succede bravo ho fatto il ho fatto il bravo ho fatto il il brillante ho tenuto la bandiera ma mi hanno ucciso va bene andrò in paradiso ma un attimo ma quelli che rimangono qui tutta questa gente infuriata cosa farà di loro faranno il peggio del peggio altro che idolatria faranno veramente qualcosa di gravissimo perciò aronne guardate quanto era superiore aronne aronne ha detto salvo cerco di salvare il salvabile che non vada a finire chissà come perché se mi uccidono faranno veramente di tutto e di più allora dice aronne il suo piano che cos'era cerco di prendere tempo perché Mosè aronne sapeva che Mosè sta per arrivare sapeva che era una questione di ore allora uno può dire perché non l'ha detto non poteva in quel momento in quel momento la gente era fuori di testa non capivano niente in quel momento tu non puoi ragionare con una persona che sta panicando con una persona che in quel momento ragiona col cuore non puoi non puoi fare niente ogni cosa che dici diventa peggio ma cioè aronne non poteva anzi la prova ce l'aveva davanti il nipote morto già questo parlava da solo ma cioè non è che aronne aveva paura di farsi uccidere per dio aronne figuriamoci si sarebbe fatto uccidere come ma in quel momento farsi uccidere sarebbe stato troppo facile sarebbe stato scappare dalla propria missione ma aronne non voleva scappare dalla sua missione cosa ha detto perdo tempo sto al loro gioco intanto Mosè arriverà dice aronne va bene volete un vitello benissimo andate dalle vostre donne le vostre mogli e dite di togliere tutto l'oro che hanno di darvelo e portatelo qua da me aronne sapeva che le donne non avevano mai partecipato a una cosa del genere le donne erano tzitkanyot sante le donne della generazione degli egiziani erano una uno tzaddik lui sapeva che loro volevano perdere tempo loro vanno le mogli non danno come previsto l'oro tornano da aronne e dicono le donne non hanno dato però noi diamo il nostro oro all'epoca anche gli uomini avevano orecchini di oro eccetera ogni tutti gli uomini hanno tolto hanno dato il loro oro e ha detto aronne ecco tieni il nostro oro aronne cosa fa sta al gioco lui dice va bene butteremo questo oro nel fuoco che si fonda aronne cosa succederà si fonderà l'oro loro vedranno che niente è successo perdo tempo nel frattempo mosè arriva ma cosa è successo quando mosè aronne questo è il punto che lui ha buttato l'oro nel fuoco cosa è successo non si è soltanto fuso l'oro ma è uscito fuori il vitello d'oro praticamente possiamo dire che era aronne che ha buttato l'oro dal quale è uscito il vitello come è possibile che aronne fanno una cosa del genere era ignaro ovviamente non sapeva come è nato c'è un midrash che racconta di come è uscito fuori un vitello d'oro butti oro e viene fuori un vitello da dove? senza andare nei dettagli c'era con loro quello che si chiama Erevrav Erevrav erano quel gruppo di egiziani che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto hanno voluto anche loro uscire Mosè li ha portati fuori ed erano sempre all'interno dell'accampamento all'interno del popolo ebraico Erevrav ecco ogni volta che c'era una problematica una ribellione un qualcosa di grave era colpa di quegli Erevrav di quegli egiziani che Mosè ha voluto portare ha accettato che loro venissero e ogni volta che c'era un problema erano loro adesso questi Erevrav quando Giuseppe era morto l'hanno sepolto nel Nilo e lui ha detto quando uscirete ha fatto giurare quando uscirete ricordatevi di portarmi fuori come? senza andare nei dettagli c'era questo foglio che c'era scritto Ale, Shor, Sali, Toro infatti Yosef era della stirpe del toro loro hanno buttato l'acqua questa scritta nel Nilo è venuto fuori il corpo di Giuseppe e loro sono riusciti a portare fuori Erevrav ha tenuto questo foglietto con Sali, Toro e quando c'era il fuoco con loro hanno buttato questo foglietto nel fuoco e per magia o comunque per forza sovranaturale è venuto fuori un vitello Toro, vitello stessa famiglia ecco tutta questa storia qua che è tutta così inverosimile cosa ci dimostra? che in realtà era una cosa che era quasi come se Dio voleva succedesse perché è inverosimile che Mosè ritarda di poche ore e tutti vanno fuori di testa e portano l'oro e tutta questa storia qua che butta il foglietto e viene fuori sembra una cosa di fantascienza di Walt Disney perciò appunto vediamo che Dio era lì presente ed era come se veramente doveva succedere perché sono diverse situazioni diverse spiegazioni ma per appunto rompere quando tu rompi te stesso questo ha causato che rompesse la gava rompesse la personalità così la superbia degli ebrei allora ma ci sono diverse spiegazioni perciò tutto questo che sembra inverosimile Dio aveva anche lui partecipato un po' in questa cosa qua cosa succede? quando Aaron si trova davanti il vitello d'oro che non si aspettava dice wow questa non me l'aspettavo cosa dice? ok domani prende il tempo dice domani faremo festeggeremo porteremo i sacrifici a questo nuovo leader intanto Aaron ha costruito l'altare almeno non subito hanno cominciato a fare l'olatria ha di nuovo preso un po' di tempo e fa tempo Mosè arriverà cosa è successo? Mosè non arriva in tempo anche il piano di Aaron per quanto fosse studiato è andato in fumo cosa succede? la cosa è sfuggita dalle mani e gli ebrei Aaron no assolutamente gli ebrei hanno cominciato a fare idolatria a fare tutto quello che la Torah spiega eccetera e poi quando scende Mosè vede e spacca le tavole adesso proprio questo Shabbat abbiamo detto prima che noi leggiamo la parasha di Paraduma del vitello d'oro wow cioè noi leggiamo la parasha di chi ti sa dove racconta il misfatto dell'idolatria ma leggiamo quest'anno che abita insieme leggiamo anche nello stesso Shabbat nel secondo libro la parasha che parla della paraduma la paraduma era la mucca rossa cos'era la mucca rossa che portava purità purezza che quando la persona era diventata impura andava dal Kohen il sacerdote che aveva le ceneri di questa mucca che era stata sciachtata poi bruciata mischiata con l'acqua e spruzzava un po' di queste di ceneri sulla persona che era impura e la persona diventava pura perciò proprio questo Shabbat qui parliamo della paraduma della mucca rossa che viene a perdonare principalmente serviva a perdonare il peccato del vitello d'oro e poi quest'anno capita proprio insieme nella stessa Shabbat non sempre cade così infatti dicono cosa c'entra perché la mucca rossa viene a portare perdono per il peccato del vitello d'oro perché il vitello è il bimbo della mucca allora quando un bambino il midrash dice è venuto il vitello e ha sporcato poi è venuta la madre e ha pulito perciò il vitello ha causato idolatria la madre del vitello viene quando un bambino sporca poi la mamma viene a pulire quello che il bambino ha fatto perciò questo dice la mucca rossa viene a portare diciamo perdono per il peccato del vitello d'oro interessante notare che in tutta questa faccenda qua il Kohen Gadol il sacer sommo sacerdote il Kohen che faceva spruzzava lui diventava impuro perciò arrivava una persona impura il Kohen li spruzzava era come se assorbisse l'impurità di quella persona il Kohen la prendeva e cosa succedeva proprio il Kohen che per lui è così vitale importante essere puro lui era pronto a rinunciare alla sua purezza per portare un'altra persona a rientrare nell'accampamento perché all'epoca chi diventava impuro doveva lasciare l'accampamento tornare a essere puro per poi rientrare perciò questa storia qua questo dettaglio che il Kohen il sacerdote lui diventava impuro per poter permettere a un altro ebreo di tornare a essere puro questa è la chiave di lettura dove noi troveremo la risposta alla nostra domanda a ronne come è possibile per quanto tu abbia avuto l'idea di salvare la situazione di fare l'idea era giusta ma alla fine fine a cose fatte a ronne ha partecipato a ronne ha fatto ha sciolto l'oro ed è venuto fuori la mucca rossa è venuto fuori il vitello a ronne ha fatto l'altare anche se non l'ha fatto volontariamente in fin dei conti a ronne ha partecipato la domanda rimane e qui è la risposta la risposta è per salvare qualcuno che sta negando in mare non stai lì a dirgli ehi ehi nuota così o nuota cosa ti butti in mare per salvare quella persona quando una persona è caduta nel fango e sta andando sempre più giù non stai lì a dire tira la corda ti butti giù nel fango ti sporchi i vestiti prendi la persona e la tiri fuori questo è salvare una persona nessuno salva un'altra persona dal divano di casa fai così e fai così no perciò il punto è Aaron in quel momento era in mezzo a due fuochi uno era dire di no però questo voleva dire morire l'abbiamo già detto numero due guardate la grandezza di questo concetto la seconda opzione che aveva Aaron era partecipare per salvare il salvabile non opporsi ma partecipare fare finta che è con loro per poter salvare quello che è salvabile anche appunto di a costo di macchiarsi di un peccato perché in effetti Aaron in qualche modo si è sporcato un po' del peccato non ha partecipato con loro fino alla fine ma diciamo che le sue mani anche se sono un po' sporche volendo o non volendo in questo caso però lui anche se questo è un leader anche se si sporca le mani lui è pronto a sporcarsi le mani per il suo popolo abbiamo detto prima morire era la situazione più facile per Aronne muoio per Dio ma gli ebrei cosa faranno peggio che peggio Aronne ha avuto sacrificio di se stesso rimanendo in vita e non volendo morire perché per salvare la situazione adesso perché allora se ha partecipato Aronne non viene punito da Hashem Hashem non ha detto neanche una parola lui ha continuato a essere il sommo sacerdote cosa è successo qua allora per capire questa domanda dobbiamo chiederci un'altra domanda siamo alla fine abbiamo ancora due storie bellissime perché c'era bisogno di avere due leader Mosè e Aronne non mancava non bastava solo Mosè non bastava solo Aronne due quando andavano dal farone a parlare Mosè parlava il farone non capiva niente Aronne traduceva non poteva andare direttamente Aronne senza aver bisogno di tradurre che Mosè vada e traduce idem quando Mosè va su Sinai Mosè e Aronne vanno insieme però solo Mosè va su Aronne rimane giù perché c'era bisogno di avere due leader allora il punto era che loro due avevano erano tutti e due necessari ma avevano due compiti totalmente opposti Mosè il suo compito era di occuparsi di cose celestiali di cose divine di cose spirituali infatti Mosè era colui che era riuscito a portare giù la presenza di Hashem in questo mondo ogni volta che gli ebrei sbagliavano Mosè pregava per riappacificare Dio con gli ebrei vuol dire Mosè il suo compito visto che lui era spiritualmente elevato vicino a Dio Mosè doveva occuparsi di portare giù questa divinità che era così in alto di portarla giù in basso perché lui stesso era divino allora riusciva ad avere a che fare avere un rapporto con Dio che magari Arone non poteva fare Arone invece si occupava della terra Arone non faceva quello che faceva Mosè Arone era il nonno di tutti gli ebrei quando c'era un problema quando due persone litigavano non andavano da Mosè andavano da Arone Arone era riconosciuto per essere quello che portava pace amore fratellanza tra le persone Arone era quello che qualcuno peccava veniva gli dava una pacca sulla spalla diceva non ti preoccupare pregherò per te tu porta questo sacrificio io prego per te mi raccomando non sbagliare più nessuno andava da Mosè a dire ho bisticciato con mia moglie ho fatto questo peccato chi osava parlare con Mosè di queste cose andavano tutti da Arone infatti tra parentesi proprio per il fatto che Arone era così vicino al popolo più di Mosè quando è morto Arone c'è scritto che l'hanno pianto più tempo di quando di quando Mosè è morto perché perché Arone era uno della famiglia era il nonno era quello che li capiva avevano confidenza ecco questo era il bisogno di avere due leader uno era il colui che parlava con Dio e Arone era quello che parlava col popolo quello che portava la parola di Dio al popolo che Mosè non era capace di fare perché era troppo troppo elevato adesso arriviamo adesso al punto per questo Arone doveva per forza sporcarsi per salvare il popolo Mosè Mosè non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere perché Mosè era troppo santo era troppo elevato infatti non era lui il vero vero leader Arone che era il vero leader del popolo colui che stava vicino abbiamo spiegato per salvare una persona non puoi dare direttive devi buttarti in mare con le persone devi sporcarti le mani perciò proprio Arone guardate la grandezza di questa persona la grandezza della Torah la Torah ti dice vuoi rimanere puro senza peccati neanche tracce ma il tuo popolo morirà perché faranno di peggio di peggio o sei pronto a rinunciare un po' della tua santità e sporcarti un po' le mani Arone cosa ha fatto? ripeto per l'ennesima volta per lui morire era la cosa più facile che poteva scegliere non sbagliava andava direttamente in paradiso ma lui non voleva andare in paradiso lui era pronto ad avere delle macchie nella sua anima per in qualche modo aver partecipato all'idolatria però io cerco di aiutarvi cerco di salvarvi Arone si è buttato a capofitto nel fango per salvare gli ebrei la storia del gallo l'ho raccontata nel video lo racconto velocemente è un esempio è una parabola e il re aveva un figlio il principe il re del trono un giorno impazzisce e pensa di essere un gallo comincia a va dorme nella paglia nella fattoria mangia i semini va a torso nudo proprio con un gallo il re disperato non sa cosa fare chiama questo dottore quel psicologo ma nessuno riesce a farlo portare a se stesso a un certo punto viene un saggio dice il re non ti preoccupare io ho la soluzione il saggio va il primo giorno lì dove si trovava il principe nella paglia nel fieno e fa credere a lui che anche lui è un gallo gli dice posso stare qui con te? prego anche io sono un gallo prego mangiano insieme dormono insieme fanno delle cose uguali dopo qualche giorno il principe ha un po' di diciamo sicurezza cioè si trova vedi che c'è un amico con lui si fida di lui ok un giorno il il l'anziano il saggio dice ma sai cosa io sono stufo di mangiare sempre semi basta io da ora in poi da oggi mangio un bel piatto di pasta una bistecca come si deve e lui dice ma come ma tu sei un gallo sì va bene io sono un gallo ma che se ne importa voglio mangiare come si deve l'indomani dice io sono stufo di dormire nella paglia fa freddo fa umido io vado a dormire in casa in breve in poco tempo lui che era arrivato a dormire nella paglia con il principe quando aveva acquisito la sua fiducia si comportava come lui allora il principe lo ha ascoltato perché perché ha visto qualcuno che arriva a dormire con lui perciò si è fidato di lui l'ha seguito e pian piano è tornato a se stesso ha cominciato a intraprendere di nuovo la sua vita normale tutti gli altri che venivano volevano dall'alto cercare di farlo guarire gli dicevano fai così fai cosa tu non sei un uccello tu sei un umano tu sei il principe tu sarai il re tutte cose che lui non ascoltava neanche soltanto chi è andato per una settimana per un mese a dormire a mangiare con lui a immedesimarsi nella vita nella vita del gallo solo lui alla fine è riuscito a salvarlo perché ha dovuto scendere in basso sporcarsi mangiare comportarsi come lui per farlo guarire questo è un vero leader colui che non guarda la sua santità e io non posso rinunciare ma chi guarda il bene del prossimo quante persone sono pronte a rinunciare al proprio bene per il prossimo non abbastanza perché se ci fossero abbastanza persone pronte a rinunciare a se stessi per il prossimo Mashiach sarebbe già arrivato perciò infatti il Kohen abbiamo detto che si rendeva impuro per dare la possibilità a un'altra persona di rientrare nell'accampamento un'ultima storia c'era il figlio del Bal Shemto del Balatania del secondo Rebbe 200 anni fa tipo lui quando come ogni Rebbe aveva sempre udienze private persone venivano da lui a chiedere le bendizioni a chiedere consigli problemi eccetera eccetera un giorno c'era qualcuno dentro in udienza privata a un certo punto il Rebbe gli chiede di uscire e sentono che per una o due ore il Rebbe piangeva piangeva era in introspezione e la gente non capisce c'era tutta una fila di persone che volevano parlare con il Rebbe ma zero per due ore intere lo sentivano come lui pregava piangeva piangeva pregava dopo due ore intere chiama dice fate rientrare quella persona che era qua prima gli risponde a quello che doveva rispondergli e la storia finisce lì poi il Rebbe racconta gli hanno chiesto ma cosa è successo in queste due ore che tutti aspettavano tu li piangevi dice quando le persone vengono da me a chiedere consiglio a chiedere come migliorare la persona come migliorare il loro attaccamento a Dio come pregare meglio come fare le mitzvot meglio io non è che do delle risposte così avventate io vado in introspezione cerco di trovare un qualcosa di simile una mancanza simile di questa persona che mi sta parlando in me stesso allora quando io mi immedesimo trovo in me stesso un qualcosa ovviamente il Rebbe ha proprio minima minimamente un qualcosa che non va quando trovo quella cosa lì in me stesso allora riesco a dare un consiglio a chi mi sta di fronte di come comportarsi perché lo vedo su di me non parlo a vanvera quando è entrato questa persona qua aveva fatto un peccato così grave che io non sapevo in quale modo aiutarlo a riparare perché non vedevo in me assolutamente questa cosa qua in quelle due ore che lui ha pianto ha pregato è andato in introspezione fino a che ha trovato un milligrammo di quella problematica che aveva quella persona dentro di sé allora sì che è riuscito a trovare in sé quel problema è riuscito a dare una risposta onesta e non siamo tutti bravi a dire fai questo da quest'altro ma il Rebbe dà una risposta giusta ad ogni persona allora sì l'ho chiamato perché ho potuto perché mi sono medesimato ho trovato in me e ho potuto dare al prossimo e questo è il punto di quello di quello che ha fatto Aronne Aronne poteva dire no idolatria matti moriva andava direttamente in paradiso perché è morto per Hashem ma Aronne non voleva questo Aronne era pronto a sporcarsi le mani ad avere delle macchie sulla sua fedina spirituale per il prossimo questo è un po' come quello che fa il Rebbe con i suoi emissari il Rebbe e il Mosè è quello che connette con Dio ci insegna cosa fare cosa dire come fare ma i vari emissari nel mondo che hanno a che fare con il popolo sono come Aronne che nessuno si deve vergognare di andare da da un rabbino a dire io ho fatto questo ho fatto quest'altro dammi un consiglio siamo qua apposta guai ad avere paura timore di un rabbino vergogna siamo qui apposta per aiutare le persone perciò ognuno di noi ognuno di quelli io niente io sono l'ultimo del carro ma tutti quelli che hanno lasciato la loro vita che abitavano in Israele in America e sono andati in Russia in Italia 50 anni fa 60 anni fa dove non c'era niente cosa hanno fatto loro potevano benissimo stare a Gerusalemme o in America ad avere una vita con kasher con studio con scuole con tutto invece hanno detto andiamo ci sporchiamo le mani andiamo a Milano dove non c'è niente all'epoca o c'era poco andiamo in Cina in Giappone in Russia oggi non c'è al mondo un posto dove non c'è un centro khabad tutte queste persone hanno sacrificato la loro vita anziché stare ripeto a Gerusalemme a studiare a pregare hanno detto devo andare a buttarmi nel fango in Cina e in Giappone per salvare qualcuno che si trova lì che ha bisogno di me fa niente se studierò di meno fa niente se i miei figli dovranno fare la scuola online oggi è già normale con Zoom ma chi non ha una scuola ebraica in Cina e in Giappone deve studiare con gli altri bambini in America su Zoom già da anni e anni fa niente basta che posso salvare un'altra persona questo è la forza di un qualcuno che ama sinceramente il prossimo è pronto a dare se stesso togliere da se stesso e della sua famiglia per il bene del prossimo ma il punto finale con questo finiamo è quello che tutti noi che stiamo ascoltando dobbiamo fare quando vuoi educare qualcuno che sia tuo figlio che sia un amico chiunque tu vuoi influenzare avvicinare portare a Dio prima dimostrali il tuo amore quando tuo figlio viene a casa con un brutto voto quando tuo figlio ieri sera ha dormito alle 4 di notte e oggi dorme e non va a scuola qualsiasi cosa fa tu hai diritto di parlargli solo se tutta la tua vita l'hai amato l'hai seguito eri con lui allora puoi dire dai puoi dire qualcosa ma se tu non hai mai curato tuo figlio non sai dove va cosa fa con chi esce non sai niente perché sei occupato nel tuo lavoro nella tua vita non puoi permetterti di alzare la voce su tuo figlio perché lui ti dirà ma adesso ti svegli che sei mio padre e ieri l'altro ieri un mese fa quando avevo problemi dove eri tu questo è quello che Aronne ti insegna per salvare una persona in primis devi essere capace di amarlo amarlo sinceramente per quello che è quante persone rompono i rapporti con i figli con i fratelli con gli amici perché vogliono soltanto imporre la cosa giusta anche magari ma come fai a imporre se non hai dimostrato il tuo amore se non sei pronto a dare te stesso buttati nel fango per tuo figlio fagli vedere che lo ami nonostante tutto quegli misfatti che lui fa allora sì che potrai anche quando lui sbaglia riprenderlo sempre con amore ma non puoi arrivare dal nulla e fare il papà alzare la voce non funziona così Aronne ti insegna che devi avere un amore sincero e quando hai veramente amore sincero e sei pronto anche a buttarti nel fuoco nel fango questo è l'unico modo di aiutare le persone perciò cari amici quanti di noi in realtà abbiamo casi di persone che non andiamo d'accordo abbiamo rotto i rapporti perché per questo motivo con la forza con le forti con la durezza non arriviamo da nessuna parte solo solo con l'amore e quando hai veramente amore puoi anche alzare ogni tanto la voce puoi anche mettere in castigo un castigo educativo ma prima sii tu la persona giusta fai sentire la persona che tu veramente lo ami anche quando lui va contro ogni insegnamento rimane tuo figlio non farlo sentire a disagio molte volte i figli scappano dai genitori perché si sentono a disagio della loro scelta quante famiglie di persone anche di rabbini i loro figli vanno via si allontanano perché perché hanno scelto un'altra strada e i genitori purtroppo non sono capaci di farli sentire il loro agio li fanno sentire in colpa allora chi vuole sentirsi in colpa quando io vedo una persona che mi mette a disagio la evito non facciamo scappare i nostri figli non vanno nella strada che le abbiamo indicato non fanno quello che vogliamo non fanno una cosa giusta lo puoi salvare solo con amore e farli capire che qui è casa tua non devi sentirti mai a disagio perché tu qua qualsiasi cosa farai sarai sempre mio figlio e ti amerò per sempre chiediamo a tutti di condividere questa lezione e chiediamo a tutti di essere pronti a buttarci nel fango per salvare Am Israele Chai Mashiach Nao Amen Kenye Irazon Ci abbraccio l'uomo a tutti Mashiach Mashiach Grazie a tutti.